Buongiorno, sono Giovanni Fabiani, mi piacerebbe presentarvi i nostri prodotti. Tutto questo tempo siamo stati lontani, più molto io sono sempre vicino a voi per il consiglio e cerco di studiare sempre e amare tanto quello che faccio per voi. Quindi ho preparato delle belle volte classiche, su tutte le altezze delle tacche da 50-90 e credo che siano dei prodotti che voi potete amare, come io le immagino che vi piace. Poi abbiamo fatto anche dei prodotti fashion, che sono dei prodotti abbastanza interessanti, molto molto moda, moda gli oli proprio, quindi potete vedere come i tacchi, i vestigati, ecco, e si potete veramente venire al bosco e vederli impostati lì. Poi abbiamo pensato anche per fare dei prodotti fashion, che sono dei prodotti molto leggeri, quindi penso che ogni donna c'è un po' di leggeri. Poi abbiamo fatto anche dei prodotti light, che sono prodotti fatti nuovi, inventati proprio per avere la leggerezza e i geni. Naturalmente i nostri forni e anche i prodotti nostri a sacchetto, che potete anche produrre ci sono per non far forgere i geni. E infine, posso dire se è più gelato, perché quando verranno a Mosca bisogna vedere dei miei. Grazie!